Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale ragazzi, oggi ragazzi come state vedendo dallo schermo ragazzi, gli aggiornamenti ragazzi, gli aggiornamenti ragazzi, gli aggiornamenti ragazzi, li faccio vedere in web qua ragazzi, ok ragazzi, ora li apriamo ragazzi, ok Se li riesco ad aprire però, e li attacchiamo anche ragazzi, ok, ecco ragazzi, qua ragazzi, ma lo metto qui Qua ragazzi, lo metto vicino alla webcam ragazzi, guardate, ok, lo metto vicino alla webcam Ecco qua ragazzi, lo apriamo ragazzi, 7 aggiornamenti, 7 aggiornamenti Conti più di 90 figurine Ok ragazzi Ok Ok ragazzi Vediamo Ok Allora Allora Gaians So So Morau Poi Chibora Poi Strattman Poi Asamoah ragazzi Poi Poi Unas Al Crotone Stac Nasce Poi Poi Musacchio Errado Cotto qua Già stava Alla Tante Pertro Vabbè Poi Pessina Poi Ed De Pauli Poi Coco Rien E Onguene Onguene Poi Poi Duncan E Naigolan Che è un giocatore Che è un giocatore A gennaio 80 Poi Lasagna E Frabotta Sarà già Da giugno Vabbè Dettaglio ragazzi Poi Maiale 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 Poi E Cobalenco Cobalenco E Cobalenco ragazzi Poi Di Carmine E Malquit Poi Faragò E Rugani E Alcalce Rugani Ma Guardi Non capito Tutto Il Che Ganato Vecchio Poi Povolo Asqua Ma Stai Poi 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 Sto Poi Sto Raro E Bessa C'è 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 Ah Le Mi Sono Ah Raga I Le Carte Speciali Raga No Sto Queste Qua Si Raga Le X Quelle Che San Ogni album Le X Sembra E che sono Facchetti Cannavaro O Pirlo De Rossi Ragazzi Buffon E Dino Zoff Poi Francesco Totti Cristiano Ronaldo No potremmo anche il raga Ronaldo Che non è una Leggenda che so da tre anni Da tre anni Poi Cabrini Poi Burking Poi Zidane Poi Antonioni Antonioni Questo qua Non lo conosco Questo qua raga E questo è Maldini ragazzi Poi Baggio E Del Piero Di nuovo raga Del Piero Poi 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 Platini E Gianni Rivela Ragazzi Sia De Mila Che dell'Inter Ragazzi Poi Poi Paolo Roberto Falcaor E ragazzi Una leggenda Del Napoli Ragazzi Una leggenda Ragazzi Diego Armando Madone Ragazzi Ragazzi Mori A 60 Questa Per Coppa D'ecco Questo K Covid Barisi Ex Inter Ah Ex Inter Che Stato Anche All'Index Sto Mi Non Di Codo Male Sostituiti Mento La 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 Checklist Ragazzi La Poggio Qua La Questa Ok Poi Poi Antena Conti Sanabria E C Bra Abf Braf Torregrossa Marlon I Raga Gli Allenatori Roberto D'Avesta E Davide Nicola Davide Nicola Ex Barry Raga Ex Barry Man 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 Scriccio Poi Bunny Singo Che Stava Già Ragazza Stava Già Ragazza All'Inter All'Inter Al Torino Purtroppo Perché Non è Che Dove Poi Mandragora Ragazzi Poi Ray Ray Reynolds E El Sharawi Stefan Altri All'altro Ragazzi Del Crotone Serse Cosmi Davide Balandini Tomuri E Medi Viglialli E Savonara Poi Zir Kex E Pelle Graziano Pelle Poi Poi Ragazzi F F I Orende Stava All'Utrin Stava Poi Poi Natural Del Cagli Ragazzi Leonardo Semplici Ragazzi Poi Ragazzi Guarda Con le X Ah Le P Anche Questo Sono Le Pianure Ok Ragazzi Che Galantono Calanga Galantono Poi Battistuta Ragazzi Battistuta Il Ciruso Immobile Maldini Luigi Riva Questo Qua C'è Caprico Un'extra Collezione Poi Caputo Poi Maggi Ma Guarda Qua Qua Sfattura Qua Sfattura Brut Giuli Mangiore Poi Marco Rossi Ragazzi Lui Si è Ritirato Perché Ha Fato Un I Fortunio Ragazzi Poi Poi Ha Perto Qua Prè Ben Lassen El Cagliar Cic Diego Armando Manadone Ovviamente Ragazzi 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 Poi Crespo Ragazzi Crespo Poi Grand Per Do Strom Gar Poi Ragazzi Ragazzi Vabbè Ragazzi Una leggenda Dell'Inter Ragazzi Che Attualmente Vice Presidente Dell'Inter Ragazzi Javier Javier Zanetti Ragazzi 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 Per tutti L'Inter Che Stanno Tento Schemi Sotto Ashtar Ashtar Ragazzi Ragazzi Poi Poi Alessandro Dal Piero Ragazzi Poi Totte Mancini Ragazzi Poi Poi Lufa Bulgarini E Luis Riva Beh Qui Ragazzi Che Credo Che Non ce la faccio Ragazzi Ad Ragazzi Attaccarlo In tutti I Gli Gli Raga Darvi A lungo 20 Minuti Quindi Ragazzi Ci vediamo Domani Stacchiamo Ragazzi Qui Ragazzi Bella Raga Ciao Ciao Raga